E in più, devo ringraziare la Richard Milizia, non dovete preoccuparvi, non dovete farvi questi dogmi mentali! Mi arriva un messaggio, tu non sei niente senza di noi. Sarà pure, non sarò niente senza di voi. E' strano che io da 40 anni faccio sto mestiere e ho sempre avuto i locali pieni, sia con voi che senza di voi. Chiaramente siete un grande aiuto, chiaramente siete nel mio cuore, nella mia anima, capito? Ma posso anche stare tranquillamente da solo, mi fa piacere avere più gente. Ma non mettetevi, come ho detto la volta scorsa al Gerarca, su di un piano superiore che non vi si compete! Che non vi si compete! Richard Benson rimane singolo! Non ho paura di affrontare nessuno! L'avete capito? Che mi frega! Se mi volete seguire, se mi amate, mi seguite! Se non andate a seguire! Viaggio Antonacci, Giovanotti, Ramazzotti, Lapausini e via discorrendo.